Ok, in compagnia di coach Fanizza, volto disteso, volto soddisfatto, tutto bene per il Castellana Grotto? Sì, effettivamente abbiamo avuto un bel approccio, è stata per noi una partita importante. Chiaramente oggi era l'ultima partita di Enrico Libraro, perciò volevamo dedicarcela. Stanchi, però motivati, però nello stesso tempo ci tenevamo a far bene. Specialmente il fatto di fare anche un derby con l'amico Sandro Medico, siamo amici da tanti anni, perciò è positivo. Però forse abbiamo avuto veramente un approccio molto importante che non ha permesso, da quello che si è visto, di fare entrare in partita l'Alessana. Anche se ci tengo a precisare che effettivamente l'assenza di bolla per loro è importante.